Una coppia che fa sesso in spiaggia all'alba, e che finisce per essere ripresa. Il video che, come ormai capita spesso, finisce in rete e diventa virale È successo a Gallipoli nel Salento in Puglia. Le immagini hanno indignato il web vista l'indifferenza con la quale i due amanti hanno il rapporto tra la gente Forse è un po' troppo perché comunque un amplesso in pieno giorno non può essere giustificato, magari mentre stavano passando famiglie con bambini Il video in pochi minuti Grazie